Assessore, anche lei oggi ha voluto onorare la legalità con la sua presenza in questo luogo, in questo giorno di festa possiamo definire? Più che un giorno di festa è un giorno in cui lo Stato si riprende i suoi diritti, che sono quelli di amministrare con legalità e correttezza, amministrare con legalità e correttezza significa che bisogna togliere a chi ha rubato, perché in effetti di questo si tratta, a chi ha lucrato sul lavoro altrui, perché le cose da sole non si costruiscono e non si fanno, a chi ha lucrato sul lavoro altrui, ha tolto quello che ha restituito alla popolazione, alla gente, quindi al fruimento di questi beni accumulati certamente non con la parola onestà, li ha tolti e li ha ridati a chi ne ha diritto, che è la gente. E quindi il sindaco è qui, accanto al sindaco, perché ricordatevi che chi rappresenta la cittadinanza di un qualunque, oggi di Condofuri o di qualunque altro posto che è, sono i sindaci e i cittadini. Prima il sindaco, infatti non per caso si chiama primo cittadino, l'assessore alla cultura in questo caso ha la legalità, ma il presidente della provincia che oggi rappresento, sono accanto ai sindaci e quindi accanto alla gente.